Tavolo rotondo dalla base scultorea modello Even. Allora Even è un tavolo disponibile esclusivamente rotondo con il diametro 180 centimetri che è quello che stiamo vedendo adesso e disponibile la versione lievemente più piccola da 165. Perché abbiamo parlato di base scultorea? Perché è ovviamente questa base con questo disegno geometrico molto caratterizzante con questi masselli di elevato spessore e va a creare un effetto particolare perché sia i piedi di supporto che vediamo tra il basamento e il pavimento che i supporti tra il basamento e il piano in appoggio sono in metacrilato trasparente e quindi seppur visibili ad un'osservazione diciamo quando siamo intorno al tavolo anche adesso nel video sicuramente si percepiscono questi supporti in metacrilato ecco che quando quando lo guardo in prospettiva ho una sensazione una percezione di leggerezza nel senso che potrei percepire questo basamento come se fosse sospeso per aria. Ovviamente c'è un po' di poesia in questa descrizione ma in effetti da certi punti di vista in certe condizioni di luce si può percepire in questo modo. Quindi è un tavolo da una parte con un basamento molto massiccio ma dall'altra anche molto aereo. Il piano del tavolo even può essere o in vetro come vediamo qui o in legno. La versione in vetro ha uno spessore di 12 mm e un vetro trasparente lievemente molato ovviamente sul perimetro. La versione in legno invece ha uno spessore di 4 cm e la versione in legno la potete vedere nel catalogo è piuttosto particolare perché oltre allo spessore piuttosto massiccio che poi viene ripreso anche dallo spessore dei masselli dei masselli del basamento. Oltre a questo spessore massiccio è caratterizzato da un'apertura centrale. Questa apertura centrale diciamo un'apertura in termini estetici perché in realtà è un piano di vetro girevole peraltro che ha una doppia funzione. Quello di fungere da lazy susan cioè quella piattaforma girevole che mi permette di passare gli oggetti tra commensali più agevolmente che viene tipicamente usato sui tavoli rotondi di grandi dimensioni e vista la caratteristica estetica del basamento su un piano rotondo in legno da 165 da 180 che risulta piuttosto massiccio nell'aspetto e andrebbe a occultare nascondere questo basamento molto caratterizzante ecco che l'apertura in vetro mi permette di godere del contenuto estetico della base anche vedendolo attraverso diciamo dall'alto e non solo da quando da quando mi allontano. Parliamo un attimo dei materiali. Allora abbiamo già citato il piano in vetro questo è molto semplice il metacrilato dei supporti. Parliamo del basamento. Come prodotto d'alta gamma diciamo che viene usato un legno specifico per la specifica applicazione estetica che si desidera. Traduco qui vediamo il basamento nero viene usato il frassino che viene laccato a poro aperto nero poi c'è la versione in rovere tinto chiaro e la versione in noce canaletto quindi magari produzioni magari anche di buon livello ma relativamente più basiche usano magari sempre il frassino tinto in vari colori o sempre il rovere tinto in vari colori qui abbiamo un legno specifico per l'applicazione. Intanto che stiamo filmando i dettagli del basamento va citato questo prima l'abbiamo descritto in termini geometrici però proprio in termini di lavorazione per come sono lavorati i masselli e innestati tra di loro è quello che definisco un pezzo di ebanisteria moderna massiccio nell'estetica ma anche nella percezione tattile. Il finitura è ben citato le finiture legno c'è anche il basamento laccato laccato può essere un laccatottone o una finitura corten quindi non è una mera laccatura corten ma è proprio diciamo su base mdf c'è una laccatura che va a creare un effetto corten particolarmente screziato e materico. Parliamo un attimo di ergonomia diciamo un tavolo comodo in tutte in tutte le posizioni interpretazione diciamo che su un 180 adesso parlo del 180 si mangia comodamente in otto anche se magari è più giusto esporre quattro o sei sedie. Ho usato il termine esporre impropriamente perché poi a casa propria non si espone una sedia ma porre intorno al tavolo quattro o sei sedie però ci si mangia comodamente in otto. Parlando di ergonomia diciamo comodo perché posso anche tirarmi ben sotto e devo proprio impegnarmi per arrivare a toccare il basamento con le gambe. Diciamo che i punti dove sia meno spazio sono i tre punti dove il supporto in metacrilato va a terra e invece i tre punti dove c'è più spazio per le gambe sono quelli nei quali c'è un'apertura del basamento stesso in questo caso riesco addirittura se dopo un pranzo di quelli importanti se voglio buttarmi un po indietro allungare le gambe ecco che posso farlo. Quindi tavolo rotondo esclusivamente rotondo ed esclusivamente di grandi dimensioni dal basamento scultoreo modello even.